Ciao, qui è Francesco Bellomi. Oggi in questo video voglio darti un consiglio e voglio spiegarti anche perché ti do questo consiglio. Bene, il consiglio che ti do in questo momento è quello di essere illogico, dunque di uscire fuori da una logica, dalla tua logica. Perché? Evidentemente oggi se stai vedendo questo video, molto probabilmente sei in cerca e sicuramente come essere umano e come natura umana cerchi sempre di poter avere il meglio da quello che è la tua vita e di conseguenza sei sempre alla ricerca di un qualcosa per migliorare magari le tue relazioni, le tue finanze, il tuo modo di vivere con gli altri, la tua situazione lavorativa, un continuo miglioramento, continuo e costante miglioramento. Perché poi il fine dell'essere umano è quello di crescere, di evolversi. Bene, uno step molto importante che voglio dirti oggi e voglio invitare a te a fare oggi praticamente è quello dell'essere illogico. Che cosa significa Francesco essere illogico? Bene, la logica o meglio quello che ognuno di noi chiama logica praticamente non è altro che il risultato di una programmazione. Dunque ciò che per te in questo momento è illogico per me non potrebbe esserlo. Ciò che tu vedi praticamente di logico magari per me potrebbe essere illogico, no? Dunque la logica in realtà da dove nasce, da dove viene? La logica nasce da una programmazione, la logica nasce da come siamo programmati. Dunque in questo momento quando cerchi di fare un qualcosa fuori dalla tua zona di comfort, fuori dai tuoi standard, molto probabilmente la vedrai e vedrai il tutto come qualcosa di illogico, no? Dunque a livello razionale la tua logica ti dice guarda vedi che non è da fare perché secondo i nostri parametri logici non possiamo fare questo. E questo devi capire che praticamente è una cazzata enorme. Perché? Perché alla fine la logica è dettata dalla tua programmazione. Dunque se vuoi praticamente essere una persona che consistentemente cresce, dunque consistentemente si evolve, devi imparare e uscire fuori dai tuoi schemi logici e per farlo devi andare alla natura di questa logicità che praticamente è la tua programmazione mentale ed emotiva. Dunque cosa significa tutto questo? Significa che devi iniziare a pensare cose che prima magari non pensavi e prima di pensare cose che prima non pensavi devi accettare che queste cose tu possa pensarle. Perché immediatamente la prima sensazione che avrai, magari che ne so, devi cambiare lavoro oppure devi aprire un'azienda. O se parliamo di betting o sports trading devi attuare una nuova strategia. La prima cosa che ti viene in testa è a livello logico no non si può fare oppure no non la devo fare perché è logico che io faccia questo. Ma non è logico che tu faccia questo o quello. È logico praticamente ciò che la tua programmazione ti dice che è logico. Dunque esci fuori dai tuoi schemi, se lo fai praticamente avrai la possibilità di una costante crescita e sii sempre una persona che alla fine apre la mente ad ogni opportunità anche quando a livello logico magari in quel preciso momento qualcosa ti dice che non è proprio magari la cosa è giusta o magari la vedi in un modo completamente diverso rispetto a quella che è la tua programmazione. Apri la mente, apriti a nuove opportunità, riprogrammati a livello emotivo e mentale perché è l'unico modo per fare salti di qualità ed evolverti nella tua vita. Qui è Francesco Bellomo, se ti è piaciuto un video fammelo sapere e ci sentiamo e ci vediamo al prossimo video e come sempre alcuni dei miei video sono sempre così, no? Bom 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 bom, ti sballotti un po' da una parte all'altra, no? Come fa la tua programmazione. Ciao!